Un mercato saturo non è la fine del tuo progetto di business. Oggi ti spiegherò perché in realtà l'assenza di competitor è un problema e come questi competitor in realtà ti aiutano a capire che il tuo business funzionerà, come farlo funzionare e come puoi anche differenziarti senza fare troppi voli pindarici. Io sono Alberto Cobasvidani di ItalianIndy.com e grazie a ItalianIndy ho incontrato tantissimi aspiranti imprenditori o imprenditori che volevano lanciare nuovi progetti e il problema della competizione è fortissimo, in particolare il problema del mercato saturo, nel senso che tutti in qualche modo prima o poi partono e si accorgono che, anzi vorrebbero pattire, e si accorgono che ci sono altre persone che già fanno quello che loro vogliono, perché hanno già un prodotto simile, perché hanno già un sito affermato nella stessa nicchia, perché parlano già allo stesso pubblico e hanno articoli e video che vengono visti e letti un miliardo di volte. Questo per tanti è il motivo per smettere, ma in realtà è una scusa in tanti casi. Lanciare un nuovo progetto è rischioso e di conseguenza il tuo cervello innesca i suoi meccanismi di autoconservazione, di sopravvivenza e cerca tutti i motivi per non lanciarsi nel nuovo progetto. Ma oggi in quale settore non trovi concorrenti? Se tu stai ad aspettare l'idea geniale che nessuno ha mai avuto per poter lanciare qualcosa non ti arriverà mai, perché anche alcuni prodotti che adesso tutti osanniamo per la loro originalità, in realtà erano spesso solo le evoluzioni di prodotti precedenti, erano solo la combinazione di prodotti precedenti. E oggi appunto andiamo a vedere come sfruttare in realtà questa saturazione del mercato, come segnale per partire, come aiuto per fare la cosa giusta. Prima di partire ti invito a iscriverti alla nostra newsletter in cui parliamo di questi argomenti, di cose che non vedi in questi video, parliamo di articoli, di podcast, di libri che abbiamo visto, letto e sentito che ci insegnano qualcosa su come diventare degli indipendenti di maggiore successo. Per iscriverti alla nostra newsletter che esce una volta alla settimana vai su italianindie.com e in cima alla pagina troverai il solito modulo per iscriversi. E inoltre prima di partire ti ricordo che c'è un indice in questo libro che ti permetterà di saltare ai punti più interessanti del discorso. E ora andiamo a parlare del discorso dei concorrenti e del mercato saturo, dei competitor, come a tanti piace dire oggi. Allora prima di tutto se non c'è concorrenza non ci sono soldi. Oggi appunto i concorrenti li trovi dappertutto perché semplicemente il mercato è globale, ci sono tantissimi imprenditori che hanno idee ogni giorno, lanciano continuamente nuovi prodotti e è difficilissimo trovare per primo il trend nuovo, soprattutto se sei un piccolo indipendente che non ha la potenza di fuoco di aziende che magari possono prevedere il mercato grazie a decine di menti che lavorano solamente su quello. Quindi proprio perché ci sono concorrenti dappertutto se non trovi un concorrente in un'area, se hai trovato un'area che ti sembra l'idea geniale in cui non ci sono concorrenti, attenzione devi sospettare qualcosa. Probabilmente quel settore è troppo piccolo o in quel settore non girano soldi. Allora se si tratta di fare un business, un settore in cui non girano soldi chiaramente non ti interessa. Poi come ti accennavo anche grandi prodotti che oggi riteniamo prodotti super originali in realtà erano combinazioni o aggiornamenti di prodotti precedenti. Pensa anche al famoso iPhone, all'iPad che è diventato sinonimo di tablet per un lungo periodo, ma in realtà tablet esisteva già prima, eccetera eccetera. Adesso non ti vado a fare tutti gli esempi. E poi comunque sì, è rarissimo in generale inventare qualcosa di nuovo. Non per tar parte reali, puoi creare dei business, dei servizi fantastici, dei prodotti e dei servizi fantastici, anche senza avere bisogno di inventare qualcosa di totalmente nuovo. In realtà invece se trovi concorrenti non solo vuol dire che in quel settore vale la pena andare, ma è un grande aiuto su come posizionare il tuo prodotto o il tuo servizio o anche semplicemente i tuoi contenuti e su come renderli migliori. Allora innanzitutto è importante capire cos'è un concorrente, cos'è un buon concorrente. Un buon concorrente è qualcuno che è online almeno da un anno, perché è difficile che un progetto online partito da zero faccia qualcosa interessante dopo, prima del primo anno. E soprattutto magari qualcuno può avere un colpo di fortuna e poi sparire. Invece hai bisogno di qualcuno che abbia già un minimo di storico, diciamo così. Quindi cerca innanzitutto concorrenti che siano online da un anno e che abbiano in vendita qualcosa, che stiano vendendo. Perché è facile fare tutto gratuitamente, accumulare lettori o visualizzazioni, relativamente facile, ma comunque è molto più facile rispetto a vendere qualcosa. Tanti inciampano proprio nel momento in cui devono mettersi a vendere. Allora cerca un concorrente che è online da almeno un anno e che sta vendendo qualcosa. Questo qui è il concorrente. E attenzione che nel momento in cui decidi di fare una cosa simile o la stessa cosa, innanzitutto forse non sarà proprio la stessa medesima cosa, vediamo più avanti di cosa si tratta. Ma non devi dubitare di poter avere successo perché pensa ai medical drama, pensa alle serie televisive in cui si parla di medici. Quanti medical drama esistono? E non è che finito uno ne è cominciato un altro, ma ne esistono tanti in contemporanea. Allora c'è magari quello più famoso di tutti, ma ce ne sono altri che se la cavano comunque bene e che fanno tantissime stagioni. Perché? Perché gli amanti dei medical drama non ne vogliono guardare uno solo, ne vogliono guardare tanti, perché magari il giovedì esce l'episodio di Grace Anatomy e il venerdì esce l'episodio del concorrente, che non è granché, però intanto che aspetto il prossimo episodio, siccome sono così appassionato, voglio guardare anche le altre serie, mi tengo impegnato guardando le altre serie. Il discorso è che vale lo stesso per qualsiasi cosa. A me piace la cucina, per esempio seguo tantissimi canali di cucina su YouTube, anche se sono concorrenti e talvolta fanno le stesse identiche ricette. Addirittura mi piace vedere come affrontano in maniera diversa la stessa ricetta, ma anche nel nostro settore i corsi sul guadagnare online, che magari sono anche costosi, incontriamo continuamente clienti che sono collezionisti di corsi sul guadagnare online. Tutti i corsi che ti insegnano come fare un business da zero e arrivare a successo. In qualche modo ne comprano tantissimi uno dopo l'altro e talvolta purtroppo magari neanche li implementano, ma questa è un'altra storia. E a questo punto hai trovato questi concorrenti che già vendono. Hai capito che puoi essere un altro medical drama. Se loro vendono innanzitutto vuol dire che c'è mercato. Questo probabilmente l'hai già sentito. Non ti serve trovare qualche strumento nascosto per capire se c'è disponibilità di spesa. Il fatto che altri concorrenti stiano vedendo qualcosa vuol dire che c'è del mercato. E inoltre, siccome questi concorrenti sono online, non puoi vedere esattamente tutto quello che fanno. Però tante delle cose che fanno sono alla luce del sole. I loro gruppi Facebook, i loro blog, i loro canali YouTube, le loro email, eventualmente anche i testimonial. se sono anche molto trasparenti puoi vedere alcuni dei dati di vendita eccetera eccetera. Soprattutto riesci, grazie all'interazione col pubblico, a capire cosa fanno bene e cosa manca nei loro prodotti, nei loro contenuti eccetera. Quindi tu per esempio puoi vedere che trattano determinati argomenti all'interno della nicchia scelta e altri invece non li toccano e quelli potresti andare a toccarli tu. Oppure li trattano, ma li trattano per una famiglia del pubblico, per una parte del pubblico che è diversa da quella che andresti a trattare tu. Per esempio hai un concorrente che parla di produttività però per dipendenti, per lavoratori dipendenti, mentre tu vai a parlare di produttività per freelancer. Quindi gli argomenti saranno identici ma l'ottica sarà molto diversa. quindi puoi vedere cosa fanno loro, cosa non fanno loro e in base anche ai feedback puoi vedere cosa manca nel loro lavoro, in quello che producono. Ad esempio per questo sono utilissime le recensioni dei libri su Amazon o appunto i testimonial, ma i testimonial tendenzialmente sono positivi. Le recensioni dei libri su Amazon invece ti fanno capire per esempio cosa manca anche se vuoi vedere le recensioni negative e in questo modo puoi colmare le lacune lasciate dagli altri nei tuoi prodotti, nei tuoi servizi. E inoltre c'è un altro discorso. Se un concorrente è arrivato prima di te, ha cominciato prima di te, si sta tra virgolette prendendo il vento in faccia. È come la testa della corsa nel Tour de France che rompe il vento e tutti quelli che gli stanno dietro sfruttano la sua scia per andare, per fare meno fatica. La stessa cosa la puoi fare tu. Se non sei il primo, ma sei il secondo, sei il terzo e c'è ancora spazio per te, non si è preso tutto il mercato, difficilmente il primo si prende tutto il mercato, allora puoi godere del vantaggio che ti viene dal fatto che l'altro è stato il pioniere che ha rotto le acque, che ha introdotto certi argomenti, certe tecnologie eccetera. E questo non è una cosa da poco. Quindi questi sono i vantaggi dei concorrenti e anche come individuare questi concorrenti, come trarre vantaggio soprattutto da questi concorrenti. Allora la domanda successiva è come entrare in un mercato affollato? Perché questo mercato saltro l'hai trovato, hai capito quali sono i concorrenti forti, hai capito magari come puoi sfruttarli, però non è che puoi copiarli pari pari, perché il pubblico non è stupido e se cerca un altro medical drama non cerca un medical drama con gli stessi attori chiaramente e con le stesse storie. Allora ci sono tanti concorrenti oppure magari c'è un incumbent, quindi un concorrente fortissimo efficacemente nel settore della crescita personale, che è questo monolite che non puoi spostare in nessun modo, che non puoi affrontare in nessun modo. E chiaramente di base tu devi avere qualcosa di diverso, non puoi pensare di fare solamente esattamente quello che ha fatto il tuo concorrente principale o i principali concorrenti se ce n'è più di uno. Quindi il discorso è che devi trovare il modo di essere diverso. Attenzione, devi trovare il modo di essere diverso, non necessariamente il modo di essere migliore, perché magari il tuo concorrente effettivamente è bravo, magari hai da imparare da lui, ma se tu vai a combattere uno a uno sulle stesse identiche cose cercando di essere il migliore in tutto quanto potresti effettivamente non farcela e inoltre fai un sacco di fatica. È molto più facile essere diverso perché, come dicono in tanti, la miglior risorsa è la tua unicità, le tue caratteristiche peculiari. Nessuno può competere con il tuo essere, con te stesso sostanzialmente. Allora dove ti porta la tua unicità? E quindi ci sono diversi modi di essere diverso e andiamo a vedere quelli più comuni che puoi applicare in qualsiasi settore, quelli che sono fattibili tutti quanti. Non serve che li usi tutti. Trova quello che fa al caso tuo e punta su quello. Il primo modo per essere diverso, per essere unico, se vuoi per posizionarti, che è un termine che va molto di moda, è la tua personalità. Oggi funzionano i personal brand e le persone vogliono connettersi con te. Ne ho parlato già nel video sulla vulnerabilità, per esempio. Vogliono connettersi con te e non connettersi con un algoritmo o con un brand gigantesco, impersonale, tipo Coca-Cola per dirti, no? Quindi se tu riesci a infondere nei contenuti e nei prodotti la tua personalità e riesci a distinguerti dagli altri in una maniera che non sarà assolutamente replicabile. L'unico, diciamo, problema è che questo richiede un po' di tempo, perché le persone devono avere tempo per conoscerti. Ma se tu scegli un medium come il video, riesci a trasmettere molto bene la tua personalità, anche con video approssimati, con video così buttati lì, tra virgolette, non come contenuto ma magari come realizzazione. Si vede per esempio su TikTok tantissimo, sul fatto che le storie funzionano così bene. Anche se sono video non curati, come una produzione in studio, funzionano, anzi funzionano proprio per quello perché sembrano più diretti, più personali. E cosa vuol dire trasmettere la tua personalità? Vuol dire lasciare trasparire nelle cose che spieghi quello che ti piace, quello che non ti piace. Quindi diciamo i tuoi gusti relativamente al settore, alla tua nicchia, e anche le tue un po' stranezze, così le cose che rendono te. Quindi tu parli comunque di argomenti interessanti ma li condisci con la tua personalità. È una cosa su cui devi allenare te stesso ed è una cosa su cui deve abituarsi il tuo pubblico, quindi ti serviranno tanti contenuti e un po' di tempo. Però appunto questo viene gratis, diciamo, se riesci a esprimerti. Poi un altro modo per differenziarsi è parlare del problema, parlare di un problema, affrontare un problema che gli altri non affrontano. Tu puoi insegnare la stessa cosa ma proporla come soluzione ad un problema diverso. Quindi per esempio tu puoi andare a risolvere i problemi delle mamme che devono conciliare la loro crescita personale con appunto stare con i bambini e insegnare tecniche di gestione del tempo che sono molto simili rispetto alle tecniche di gestione del tempo che un tuo concorrente insegna ai manager. Così con un problema diverso individui anche un pubblico diverso e quello che vai ad insegnare diventa totalmente unico, il tuo posizionamento diventa totalmente unico. Puoi andare anche a prendere lo stesso pubblico ma trovare problemi diversi per lo stesso pubblico. Per estrarre i problemi importanti per il pubblico ti consiglio il nostro prodotto Maledetti Indecisi, si trova su italiani.com slash Maledetti Indecisi, è un ebook da 4 euro e ti spiega con il minimo numero di parole possibile. La procedura per andare a estrarre questi problemi puoi proporre i risultati e le soluzioni quindi anche puoi scrivere messaggi di vendita efficaci. Tu puoi andare a puntare lo stesso pubblico e trovare altri piccoli problemi e vendere prodotti o servizi per quei piccoli problemi che altri tuoi concorrenti che hanno lo stesso pubblico e magari anche lo stesso linguaggio che però non vanno ad affrontare. Nessuno, nessun concorrente riuscirà a vendere prodotti e a pubblicare contenuti che risolvono tutti i problemi possibili del tuo stesso pubblico. Poi anche se tu vai a risolvere lo stesso problema potresti avere una soluzione diversa. Per esempio si vedono almeno in lingua inglese tanti prodotti al giorno d'oggi sulla note taking, sulla prendere note e anche gestire le note per gestire la conoscenza. Le soluzioni proposte utilizzano diversi approcci, utilizzano diversi tool semplicemente e anche solo cambiando il tool hai un prodotto diverso. Di conseguenza uno che vuole fare note taking con Evernote non comprerà il tuo prodotto che spiega come fare il note taking con Notion e viceversa. Chi vuole usare Notion non se ne frega del tuo concorrente che usa Evernote. Quindi anche solo la soluzione può renderti unico. E poi, ne abbiamo già accennato, tu puoi comunque considerare caratteristiche demografiche e psicografiche diverse all'interno della stessa nicchia. Per fortuna sul web trovi il pubblico che va dai 18 fino ai 100 probabilmente a questo ormai tutti sono su internet. E quindi, per esempio, c'è una newsletter che si chiama further.net e è una newsletter curata che parla di crescita personale, diciamo, per usare un termine generico, per gli over 50, diciamo. La seguo perché il suo fondatore è un imprenditore di grande successo e voglio vedere cosa fa, sostanzialmente, per capire se sta implementando qualche nuova strategia, anche se non mi interessa chiaramente la fascia d'età, ma il discorso è che trovo trattati argomenti di crescita personale già visti e rivisti in mille altre salse, ma sono declinati solo per gli over 50. E tramite specifiche metafore, tramite un esplicito riferimento proprio alla demografica, questa newsletter si posiziona per una appunto demografica specifica anche parlando di cose di cui parlano concorrenti molto più affermati, perché questa newsletter è partita pochissimi anni fa, quando su quegli argomenti c'era già un sacco di contenuti. Puoi parlare anche ad una psicografica diversa, non solo la demografica. La psicografica si intende, per esempio, gli interessi e i problemi di cui ti parlavo prima, quindi tutto quello che non è identificabile con numeri che appunto creano il profilo demografico. E quindi puoi parlare degli stessi argomenti, affrontare gli stessi problemi ad un gruppo con interessi lievemente diversi, interessi diversi. E c'è un altro modo di essere unici che è il formato dei contenuti. Per fortuna oggi sono ugualmente accessibili il testo, il video, l'audio. Il testo può essere un blog, può essere una newsletter, può essere lungo, può essere corto. Il video può essere su TikTok, può essere su Instagram, può essere su Facebook, può essere su YouTube. Anche lì può essere lungo, può essere corto, può essere un video molto così colloquiale, oppure una cosa molto ben prodotta, molto di intrattenimento, oppure più seria. Il formato dei contenuti può determinare la tua differenziazione, perché effettivamente c'è gente che il video non lo consuma, ma legge, a raffica, migliaia di parole ogni giorno. C'è gente che non ha tempo di leggere e non ha tempo di guardare il video e solamente ascolta e quindi ascolterà il podcast. Se tu sei il miglior podcast o il podcast più visibile, diciamo, nel tuo settore, o l'unico addirittura podcast nel tuo settore che pubblica regolarmente, vincerai su tutti i canali YouTube con le persone per il pubblico che non ha tempo di, o non gradisce, guardare i video. Grazie appunto alla molteplicità di piattaforme, alla molteplicità di formati, di contenuti, oggi questo è un modo valido, validissimo per renderti unico. Tutti questi modi per distinguerti dai concorrenti li puoi combinare tra loro, puoi usarne solo uno e quindi vedi che è facile trovare una ricetta dell'unicità. In realtà non la troverai subito, cioè non è che tu adesso se sei da zero, se stai partendo da zero, ti metti a tavolino e trovi la ricetta perfetta per l'unicità. È un percorso da evolvere anche man mano che evolve il tuo pubblico, man mano che evolve la realtà, la società in generale, man mano che evolvono i tuoi concorrenti, semplicemente, e escono nuovi formati di contenuti, per esempio nuovi canali, eccetera, ma tu parti, metti insieme la migliore idea che ti viene con le conoscenze che hai adesso, pian piano raccogli il feedback del pubblico e aggiusti il tiro, che è quello di cui ti parlavo nel video sulle piccole scommesse, sui piccoli passi. Usa questo approccio sperimentale in cui ti impegni per un po' a seguire un certo approccio, poi raccogli i dati se vedi se confermano le tue teorie oppure no e poi in base al feedback aggiusti il tiro. E basta, questo è quello che ti volevo dire riguardo la concorrenza. Ti rimando anche ad un altro video che era quello su come acquisire traffico più velocemente che con la SEO, ma traffico gratuito, ed è una tecnica per andare in scia degli altri tuoi concorrenti sulle piattaforme che ti permettono di farlo, per esempio qui su YouTube con i video suggeriti. Non te lo rispiego qui perché c'è un video intero su quell'argomento ed è un altro motivo per cui ti conviene entrare in un mercato saturo, perché se ci sono altri concorrenti puoi andare appunto in scia ai loro sforzi e tra virgolette rubargli il traffico, ma più che altro fruttare l'effetto dei medical drama, ovvero visto che c'è qualcuno che segue loro poi seguirà anche te. Trovi tutti i link nei video che ho citato giù nella descrizione di questo video. Grazie per avermi seguito in questo video che parlava di come affrontare un mercato saturo, di come l'esistenza dei competitor in realtà è una buona notizia. Fammi sapere se ti è piaciuto nei commenti e qual è la situazione del mercato in cui vuoi lanciarti, se ti serve qualche idea su come posizionarti contro i tuoi competitor. Ci sentiamo al prossimo video, ciao!